Ecco la differenza tra il fusillo felichese e gli altri fusilli, guardate quanto è lungo, buonissimo! Buonasera amici del Cilento, oggi vi faccio assaggiare i fusilli più buoni del Cilento, della sagra di Felitto. Che spettacolo, grande! Sono dentro al burgo, eccolo, bellissimo! La sagra del fusillo, si entra da qui, andiamo! Durante l'attesa si può consultare il menù, eccolo qua, è aperto sia a pranzo che a Cilento. Guardate quante cose, antipasto casereccio, capicollo, soppressata, caciocavallo, melanzane, fusilli, salsiccia, ragù, mangio tutto stasera! Siamo entrati, c'è un grande! Mamma mia quanta gente! Guardate che spettacolo! Ecco di nuovo il menù con la tovaglietta. Allora, io prenderò i fusilli felittesi, ovviamente, con il ragù di castrato e la salsiccia con le patatine. Intanto, guardate che panorama! Questa è Castel San Lorenzo, questa è Castel Civita e questa è Acquara. Sostanzialmente stiamo sotto a un grande capannone. Eccoci! C'è pure il piccante, è formaggio! Questo è formaggio e questo è piccanto. Il piccante, oh, troppo, non fa niente. Rischiamo il fusillo felittese, guardate che spettacolo! Ecco la differenza tra il fusillo felittese e gli altri fusilli. Guardate quanto è lungo! Buonissimo! Guardate quanto sono belli questi fusilli! Allora, il colore è un giallo dorato e la lunghezza arriva, secondo me, quasi a 30 centimetri. Pazzesco! Ragazzi, una bella scarpetta per forza! Eccoci! Eccoci, grande! Questa sagra durerà fino il 22 di agosto. Mi raccomando, venite a felitto, ve lo consiglio anche Angelo, i fusilli sono buonissimi. Noi vi aspettiamo qui! Ciao!